Posare in vetrina con un pancione colorato per festeggiare in allegria la nuova vita che sta per arrivare è quella di una donna che dopo tante difficoltà ha raggiunto la sua forma più bella, quella della mamma. È il senso dell'iniziativa Shopping a Colori che si è tenuta ieri a Trani, promossa dalla consulente d'immagine Sabrina Altamura. Dopo un percorso, dopo la rinascita di Maria Grazia ho pensato di animare le vetrine in un negozio di Trani proprio perché con Maria Grazia ho deciso di fare il belly painting tutto colorato con i suoi colori proprio per dare intanto un messaggio di gioia e di vita e poi anche un messaggio positivo per i negozi. È bello concentrarsi su uno shopping più consapevole. Abbiamo bisogno di un cambiamento, un cambiamento positivo che deve partire proprio da noi e quindi deve partire dai colori perché noi siamo colori, i colori ci emozionano, ci danno vitalità e ci aiutano tantissimo a superare le difficoltà. Abbiamo conosciuto Maria Grazia alla sua festa di rinascita. Dopo aver scoperto di avere un linfoma, ha affrontato un lungo periodo di terapie come se non bastasse la fine di un matrimonio e la dimostrazione che dopo tanta sofferenza si può ripartire. Desideravo fare questa cosa per la mia bimba che tra pochi giorni verrà al mondo. Per me lì è una vittoria, non me l'aspettavo proprio di avere questo dono. Questo momento per me è un momento bellissimo, di gioia, tanto desiderato. Specialmente dopo un lungo percorso del mio male, del cancro, per me è una grande vittoria. Alessandro Landini per Trani Live Grazie a tutti.